Commenta il fatto del giorno Enzo D'Antona, direttore di Il Piccolo. Oggi parliamo di Mario Soldati, grande scrittore regista e creatore del Poliziesco Italiano. Soldati era lo scrittore dell'allegria. Sciascia diceva per esempio che quando leggeva un libro di Soldati era felice, era uno dei rari scrittori italiani della felicità, ha avuto una lunghissima vita artistica ed è stato di volta in volta scrittore, regista, giornalista. È memorabile ovviamente il suo viaggio lungo il Po, un viaggio in anticipo di anni, un viaggio enogastronomico, del resto lui amava molto i vini ed è indimenticabile per esempio il suo racconto Gattinara, pubblicato nella raccolta La Messa dei Villeggianti. Però la cosa che ci piace di più ricordare di Mario Soldati è i racconti del maresciallo, cioè il nonno del commissario Montalbano, lo zio del maresciallo Rocca. Irruppe sulla scena italiana, nella televisione italiana, questo sceneggiato che rimase poi nella memoria e si affiancò, ma in una versione italiana, al tenente Sheridan e a Magret. Sheridan scimmiottava un po' il giallo americano, Magret chiaramente era tutta una cosa di atmosfera francese. Però rimane comunque nella memoria questo indimenticabile Turiferro che impersonò il maresciallo di soldati e comunque rappresentò il primo poliziesco italiano, forse anche nella letteratura, nel senso che comunque è stato per la televisione quello che nei romanzi era stato Sherbanenco oppure Francoenna, cioè una storia di provincia raccontata attraverso un investigatore e un assassino.